San Salvo, innumerevoli danni per il maltempo, avete quantificato un po' il danno che è stato causato dall'ondata di pioggia? No, è ancora un pochino presto perché stiamo cercando intanto di quantificare i danni al patrimonio pubblico e abbiamo chiesto una mano, un aiuto anche ai privati per aiutarci a quantificare almeno sommariamente i danni dei privati. L'aumento è una carenza da parte della regione che consiste in questo, cioè nella impossibilità da parte dei privati di poter quantificare, peraltro in un tempo così breve perché il termine massimo ci è stato dato per il 23 di marzo, l'impossibilità dei privati di quantificare in maniera chiara, trasparente e univoca i danni che hanno subito. Vorremmo che la regione fosse più presente, non soltanto nell'indennizzare, quindi nel fare ogni sforzo possibile presso la presidenza del Consiglio per indennizzare i danni, ma anche per aiutare nel semplificare le richieste di risarcimento.